In questo video vedremo quella che è la metodologia del debate, del dibattito. È una delle metodologie non necessariamente legate alla scuola 2.0, alla didattica 2.0, perché vedremo che non necessariamente richiede le nuove tecnologie. Innanzitutto vediamo cosa sia. Innanzitutto debate vuol dire dibattito, ed è una metodologia che prevede il confronto tra due soggetti, possono essere due gruppi o anche due studenti, su un tema dato, scelto magari con gli studenti o scelto dal docente. La discussione però non è una discussione libera, è fatta in base delle regole, che possono essere tempi, mezzi, strumenti, che vengono anticipate dal docente e condivise dalla classe. È una metodologia quindi che fonde alcuni paradigmi, come quello del cooperative learning, perché naturalmente lavorando insieme si impara, specie se il debate, il dibattito è svolto in gruppo, quella del peer-to-peer, perché i gruppi si confrontano, anzi si scontrano in qualche modo, e perché poi allena molto il pensiero critico. Ora, al di là dell'enfasi del nome, debate, dibattito, noi conosciamo questa metodologia da oltre 2000 anni, perché non è in fondo altro che quella delle controversie e suesorie di epoca greco-latina. Oggi è molto usata nel mondo anglosassone, abbiamo importato questo termine, ma dobbiamo sapere che siamo noi in fondo ad averla esportata. Ora, vediamo alcune sue caratteristiche. Come dicevo, è particolarmente adoperata nel mondo anglosassone, specie le scuole superiori e le università. come dicevo, riguarda tutto e per tutto la tecnica di una controversia o di una suasoria di latina memoria. La controversia era un dibattito su un tema nel quale si scontravano due posizioni, due oratori. La suasoria era concettualmente simile, anche se era un discorso che non prevedeva un vero e proprio dibattito, ma prevedeva che un singolo dovesse convincere un uditorio. Classico esempio del discorso al Senato. Diciamo dunque che è un dibattito sul modello di molti che gli studenti avranno fatto, ma è per l'appunto regolato da alcuni indicatori che il docente può segnalare. Per esempio, interventi cadenzati su un tot numero di minuti, oppure uso di certi strumenti, per esempio PowerPoint, oppure per esempio i documenti di antologia. E molte altre regole che poi variano anche in realtà in base all'argomento scelto. Come usare questa tecnica? È opportuno dividere la classe in piccoli gruppi, tre, quattro persone, meno efficace se viene effettuato dal singolo. Occorre scegliere un tema, forse danno risultati più efficaci, temi meno frequentati, meno noti, magari aspetti periferici di un argomento già sviluppato in classe, poi vedremo un esempio molto concreto. E, cosa più importante, stabilire delle regole. Queste regole sono legate anche alle dinamiche di classe, sono legate a tanti fattori. In ogni caso, queste regole sarebbe opportuno sceglierle anche assieme agli studenti. Alcuni esempi sono il tempo di ogni intervento, il tempo della replica di un oratore o di più oratori, la scelta degli oratori, i mezzi da adoperare, l'uso delle fonti. Insomma, possono essere molte. L'importante è stabilirle e poi valutarle, queste regole. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono molti. Innanzitutto uno sviluppo del pensiero critico, proprio perché con questa tecnica due gruppi si scontrano su un tema e su una posizione che magari personalmente non condividono, non necessariamente condividono, e si sforzano di sostenere una tesi attraverso l'uso delle fonti. L'altro aspetto fondamentale è l'apertura all'opinione altrui, perché anche il solo rispetto dei tempi dei turni di parola è qualcosa di non scontato. Questo ci porta a dire che un altro vantaggio del dibattito è per l'appunto l'interiorizzazione il più possibile delle regole dialettiche che hanno una loro grande importanza, tanto nella forma quanto nel contenuto. Ecco, il debate enfatizza anche aspetti formali del dibattito, aspetti che in alcuni casi sono sostanziali nella loro importanza. E poi, come dicevamo prima, uso critico delle fonti. Qualunque sia l'argomento, una delle regole tra le più note è che qualunque tesi debba essere sostenuta dalle fonti. Questo, specie nell'ambito della scuola superiore, lo si fa praticamente sempre, ogni qualvolta si affronta, ad esempio, il tema del saggio breve. Che è uno scritto argomentativo che richiede necessariamente l'uso e il supporto delle fonti a favore o contro una tesi da sviluppare. Oh, veniamo ora ad un altro aspetto. Come valutare il debate? Naturalmente questa metodologia non può basarsi su una valutazione tradizionale. E infatti qui diciamo valutazione autentica. In breve, la valutazione autentica non mira a valutare semplicemente delle nozioni. Quindi la fine di un processo didattico, ma il processo stesso. Valutazione autentica è un tema estremamente importante in ambito docimologico e forse oggi è molto necessaria, visto che grazie anche alle nuove tecnologie le prove di verifica tendono a diversificarsi. E la valutazione tradizionale sta mostrando molti dei suoi limiti. Quindi una valutazione autentica significa creare una griglia, una rubrica. Anche questi termini hanno a che fare col problema della valutazione autentica. In questo ambito specifico non entriamo nella differenza fra griglia o rubric, ma diciamo che occorre creare con gli studenti una griglia con degli indicatori precisi, più possibile precisi e condivisi, su quello che poi andrà ad essere valutato. Quindi vediamo che il debate non valuta quanto gli studenti hanno studiato. Questo è un punto fondamentale, centrale, ma valuta, ed è un aspetto centrale nella valutazione autentica, quante cose sanno fare con quello che sanno, non quanto sanno, che in genere è una caratteristica, se non un'ossessione, della valutazione tradizionale. E poi, aspetto a mio avviso fondamentale di ogni valutazione autentica, anche del debate, autovalutazione. I gruppi, al termine, valutano se stessi e valutano gli altri. E anche il docente, naturalmente, entra in questa valutazione. Però è interessante che la valutazione autentica, in questo momento, entra nel momento formativo, non è esterno, non è eterodiretta, non è eteronoma, ma è qualcosa che fa parte del processo, è parte del processo educativo, non è esterna al processo educativo. Alcuni consigli possono essere, ad esempio, la valutazione, ripeto, non dei contenuti, perché il debate non serve a vedere brutalmente se gli alunni hanno studiato o no, perché la qualcosa si deduce in molte altre circostanze, e si deduce, in fondo, anche da come il dibattito viene sostenuto. Per esempio, si può valutare il rispetto dei tempi e dei mezzi adoperati, l'uso critico delle fonti, e l'aspetto forse più difficile da valutare, la creatività nel sostenere una tesi. È difficile da valutare, ma non siamo soli in questa valutazione, perché, ripeto, questa valutazione è aperta, dovrebbe essere aperta anche agli attori in gioco. Uso attori nel senso tecnico del termine, perché l'oratore è, tra le altre cose, un attore. Cosa è necessario? Al di là dell'enfasi che in questi anni stiamo vivendo sulle nuove tecnologie, il debate, il dibattito, o se abbiamo qualche nostalgia alla controversia e alla sua storia, non richiede affatto l'uso delle tecnologie, nel modo più assoluto. Bisogna basarsi semplicemente sulle fonti e sostenerle. Le tecnologie possono essere un valido supporto, per esempio per proiettare dei dati, dei grafici, per proiettare dei video, per proiettare una serie di documenti, ma tutto questo è tranquillamente realizzabile anche senza una didattica 2.0. Un'altra cosa che è necessaria, ben più importante dell'enfasi sulle nuove tecnologie, sono i tempi. Non possiamo pretendere tempi brevi, occorrono tempi lunghi, occorre stabilire un problema e dare un tempo congruo a questo, visto che i ragazzi non devono sviluppare un esercizio, ma sostenere una tesi, occorrono tempi che non possono essere inferiori alle 2-3 settimane, come minimo. Poi è chiaro che dipende anche dalla complessità del problema e anche dai mezzi richiesti per la tesi da sostenere. Gli strumenti. Se vogliamo, a tutti i costi, utilizzare il debate in ambito della didattica 2.0, naturalmente non possiamo fare a meno di strumenti di presentazione dei contenuti, come PowerPoint o tutto quello che equivale a PowerPoint, e quindi anche siti per delle presentazioni online, o eventualmente anche dati nel cloud, qui ho fatto l'esempio banale di Drive, Dropbox, Box o molti altri. Vediamo adesso un esempio reale, perché alla fine quello che conta poi è farla. E vediamo qui un esempio di debate effettivamente realizzato. Questo è Machiavelli. Un esempio, nel mio caso, sono stati i dibattiti sulla modernità. L'obiettivo era effettuare riflessioni stravaganti, in senso latino, su Machiavelli, ovvero contro l'Ipsed Ixit. Qual è l'Ipsed Ixit? È la tesi che in genere è presente in ogni libro di testo, le tesi presenti in ogni libro di testo, su questo autore così complesso. Il libro di testo sostiene tutti i libri di testo, pur che nella loro differenza sostengono alcune cose, ad esempio Machiavelli, il padre della scienza politica, e il termine scienza è complesso. Machiavelli che distingue la morale dalla politica. Sono tutte ipotesi che in ogni libro si trovano, però alla resa dei fatti scopriamo un Machiavelli moralista, scopriamo un Machiavelli che ha imparato molto da Savonarola, scopriamo un Machiavelli che concepisce la politica come una prassi, non come una scienza. Tutto questo nel libro in adozione non c'è. C'è una versione semplificata, edulcorata, consolatoria, a volte, in ogni caso semplificata, dell'autore. Quindi, dal momento che secondo me la modernità è proprio questo, cioè mettere in crisi dei valori semplificati, degli Ipsed Ixit, in questo caso il nostro Ipsed Ixit, il nostro Aristotele di pietra, è il libro. E ho proceduto in questo modo. Queste sono le indicazioni. Il lavoro deve essere svolto in piccoli gruppi. Ogni gruppo dovrà sostenere una tesi relativa agli argomenti dati, poi li vedremo, tramite l'utilizzo delle fonti. Particolarmente apprezzata sarà la tesi, non richiesta, ma apprezzata, la tesi critica nei confronti degli scolastici luoghi comuni connessi a Machiavelli. Ogni gruppo dovrà produrre del materiale scritto con cui argomentare la tesi. Questo materiale può essere poi caricato online, in altri modi. Ancora, gli argomenti, tanto per entrare nel merito. L'argomento è il ruolo del potere. Il ruolo del potere e il ruolo del diritto, nel pensiero di Machiavelli. Sono due aspetti abbastanza complessi. Qui io do l'indicazione per semplificare le cose ai ragazzi. Discorsi sopra la prima delica di Tito Livio, il libro terzo. Poi, problema vastissimo, Machiavelli è il problema religioso. Una delle più ataviche semplificazioni dei libri di testo è proprio su questo aspetto. C'è un rapporto molto complesso di Machiavelli con la religione. E questo rapporto complesso emerge dai discorsi, dal principe, dalla mandragola, e anche dall'inizio, l'incipito dell'arte della guerra, che qui non ho inserito. Altri argomenti ancora, sono quattro. Questo è il più complesso. Machiavelli è il conflitto sociale, ossia anticipatore del materialismo nel senso di una dialettica non teleologica che mai trova sintesi ed è continuamente aperta agli incontri aleatori, quelli cioè della fortuna. Questo è un tema piuttosto affascinante che presuppone una specie di dialettica sociale sotterranea che è già presente in Machiavelli prima ancora che in Marx. E quindi c'è l'invito a leggere i discorsi, le storie fiorentine e il principe. E poi il luogo comune più celebre e famigerato, Machiavelli e la famigerata formula il fine giustifica i mezzi. Anche qui, principe. E qui ho anche dato un libro di testo, che non è un'opera di Machiavelli, ma scegliere il principe, i consigli di Machiavelli al cittadino elettore di Maurizio Viroli. È un testo che ho fornito ai ragazzi in uno specifico capitolo, il capitolo 13. Vediamo ancora, tempi e strumenti, un mese di lavoro circa, strumenti liberi. Ogni gruppo procede come vuole, cartaceo, powerpoint, ma che prevedono l'evidenza dell'uso dei documenti e delle fonti. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono tanti. Innanzitutto spingere gli alunni all'uso critico delle fonti, cioè non fidarsi del libro, non fidarsi dell'ipsa dixit. Effettuare una riflessione sul perché i libri semplifichino le cose. E vedere se questa semplificazione sia in qualche modo voluta dal potere, o se invece sia una esigenza scolastica. E questo ci riconnette all'ultimo obiettivo, e cioè alla riflessione della scuola come strumento di perpetuazione del potere. E su questo ambito ci sarà una piccolissima apertura alle tesi di Foucault e Agamben, su temi naturalmente molto complessi come quelli del biopotere. E poi l'altro obiettivo fondamentale, ben più di quest'ultimo, piuttosto complesso, è stimolare il rispetto alle opinioni altrui e avviare la riflessione sulla modernità come un'epoca problematica, partendo da un problema. Quindi non ci fidiamo del libro quando ci dice che la modernità è un'epoca problematica, ma il modo migliore di farlo è mettere in crisi il libro, quindi imparare facendo, una specie di metacognizione sulla modernità o antimodernità di Machiavelli. E su Machiavelli. Riassumendo, questo eventuale corso sul debate può essere adatto soprattutto per le materie letterarie, ma anche per materie scientifiche. Per esempio, poniamo a due posizioni opposte su un tema legato alle scienze, per esempio, alla biologia. Quindi non è per forza il debate una metodologia legata alle materie storico-letterarie. Non richiede necessariamente, come ho detto, le nuove tecnologie. Un eventuale corso su questo aspetto può richiedere 6-9 ore per formare i docenti, anche perché in un eventuale incontro si creerà una struttura di un vero e proprio debate. e gli incontri sono ipotizzabili nel numero di 3 o di 4 a seconda delle ore richieste.